Volevamo proprio dare anche un segnale positivo nei confronti dell'economia, ma soprattutto nei confronti dei nostri ospiti, che da una città come Bolzano, così come dagli altri mercatini originali dell'Alto Adige, si aspetta di vivere questa atmosfera natalizia particolarmente curata nelle città alle nostre latitudini. Per cui siamo stati veramente felici di poter proporre questa edizione nuova, diversa. Naturalmente le casette sono più distanziate, ci sono molti decori fra le casette, alberi di Natale, decorati proprio per dare modo ai flussi di non intercettarsi troppo. Abbiamo dovuto limitare il numero delle persone che entrano in questa zona delimitata e naturalmente organizzare dei controlli della certificazione verde agli ingressi. E devo dire un grazie soprattutto agli ospiti, perché chi è venuto e ha potuto accedere alla piazza, ha ringraziato, non ha mai dato segni di impazienza o di insofferenza nei confronti di questi controlli, anzi la gioia di entrare e vivere un momento così particolare nella piazza principale di Bolzano ha superato tutte le difficoltà.